Un saluto a tutti gli amici web ascoltatori di Liberi.tv e di Spazio Certi Diritti, chi vi parla è Riccardo Cristiano che già conoscete e soprattutto già presentato dal nostro direttore Gianni Colacione, in compagnia questa sera di Jimmy Ciliberto, psicologo e psicoterapeuta. Ciao Jimmy! Ciao, ciao a tutti! Diciamo che Jimmy è scrittore di sveriate pubblicazioni scientifiche, tra le quali è appunto quella che dà il titolo alla puntata di questa sera, Curare i gay, oltre l'ideologia riparativa dell'omosessualità, edizioni Raffaello Cortina Milano. Jimmy, io partirei proprio dal titolo e dall'esigenza di scrivere un libro che tratti una tematica così delicata, a volte richiamata con, direi, superficialità anche da alcune persone che non sono propriamente titolate a parlare come, diciamo, nelle puntate precedenti, che hanno appunto trattato la tematica del curare i gay o comunque della riparazione dall'omosessualità che dir si voglia. A te la parola Jimmy! Sì, allora, questo libro che è stato una fatica a sei mani, insieme a Paolo Oregliano e Federico Ferrari, è stato un lavoro che è durato due anni ed è nato dalla constatazione che alcuni assunti che sembravano essere dati per scontati anche dalla comunità scientifica internazionale, ovvero il fatto che l'orientamento omosessuale è una variabile naturale e ugualmente positiva dello sviluppo psicosessuale umano, stava continuando, iniziando, diciamo così, ad essere messo in discussione, sia da alcuni colleghi della comunità scientifica internazionale che anche da altre, diciamo così, frange della comunità tutta. In particolare c'è stata la constatazione di due diversi livelli del fenomeno, cioè una parte comunque decisamente minoritaria che ribadiva l'orientamento omosessuale come un arresto dello sviluppo o comunque come cercava di ribadire il fatto che fosse una patologia. Dall'altra abbiamo constatato un fenomeno che noi abbiamo considerato da alcuni punti di vista anche più rischioso, il fatto che molti colleghi e molte persone magari non considerassero l'omosessualità come una patologia, ma comunque sostenessero il fatto che a fronte di una richiesta di cambiamento questa richiesta potesse essere accolta, sottolineando il fatto che l'orientamento omosessuale fosse una caratteristica molto variabile, non trasversale, non fondante dell'esperienza umana. Un po' quello che è stato detto nelle puntete precedenti da alcune persone che parlavano appunto di voglia del soggetto di cambiare un orientamento sessuale e comunque cambiare qualcosa che non sembra giusto, comunque che sia sbagliato, cioè veniva definita comunque con una patologia alla fine da questi soggetti quando in realtà la patologia non è. Esattamente, questa è una certezza che è ormai affermata da diversi decenni dalla comunità scientifica scientifica internazionale e che però spesso viene messa in discussione, viene messa in discussione facendo e come dire proponendo una confusione di livelli che va a come dire giocare purtroppo con la sofferenza di molte persone che vivono in un contesto, vivono in contesti dove l'omosessualità, l'orientamento sessuale o viene considerato come una patologia oppure non viene assolutamente visto e quindi come dire gioca sulla confusione spesso di persone giovani, di persone adolescenti, di persone che vivono un conflitto di varia natura, a volte anche religioso perché magari non riescono a trovare una sintesi che coniughi questi due aspetti e però creando delle situazioni molto pericolose, perché poi il problema qual è? Che quando si parla senza cognizione di causa bisogna capire, bisogna sempre ricordare che ci sono persone che hanno degli strumenti e che possono anche mettere, che hanno un supporto, strumenti cognitivi, emotivi, affettivi che possono anche mettere in discussione e avere la possibilità di andare avanti e trovare come dire piena realizzazione di questa parte così importante del sé. Poi ci sono tantissime altre persone e voglio sottolineare soprattutto le persone adolescenti, ragazze e ragazzi che invece in un momento di difficoltà, in un momento in cui si rendono conto di avere un orientamento non eterosessuale che è poi quello tendenzialmente previsto dalla norma, sì, possono pensare che quelle propinate siano le risposte che stavano cercando, possono illudersi che l'orientamento sessuale possa realmente essere cambiato, però iniziano, constatano che questo non è possibile, constatano che quello che può cambiare al massimo è il comportamento nella direzione di un'astinenza oppure di un controllo, ma la struttura relazionale del sé non cambia e questo poi crea dei danni perché diventa una costruzione perenne. Certo. Senti Jimmy, in rete circolano molti, soprattutto su Facebook, circolano molti gruppi che inneggiano alla guarigione e dell'omosessualità e molti di questi utilizzano, diciamo, come chiavi stella la parola cambiare l'orientamento sessuale. Molti di questi gruppi sono probabilmente di matrice cattolica o di psicologi male informati, anche perché tu poco fa stavi spiegando che queste persone vengono, diciamo, convinte di poter cambiare un orientamento sessuale e poi forse alla fine si sentono colpevolizzate, se non addirittura frustrate. Esatto. Sì, allora ci sono diversi filoni, sicuramente la matrice religiosa ha un aspetto, ha un ruolo molto importante, nel senso che la maggior parte comunque dei gruppi che propongono le terapie riparative sono gruppi che si ispirano a una lettura vetro-testamentale delle scritture, quindi a un'interpretazione letterale delle sacre scritture e semplicemente, solitamente sottolineano il fatto che è naturale che l'uomo e la donna abbiano determinate caratteristiche appiettendo completamente quella che è la diversità umana, cioè quello che viene proposto è il fatto che è l'idea che un uomo o una donna debbano avere determinate caratteristiche, comportarsi in determinati modi e tra questi vari modi essere necessariamente attratti, trovare come dire corrispensione in persone dell'altro sesso, cioè le differenze individuali vengono totalmente annullate secondo un supposto piano divino che dovrebbe riguardare tutti indistintamente. Poi c'è un'altra parte anche di proposte che arrivano da colleghi che in parte sposano queste teorie e quindi come dire sovrappongono la loro religiosa a quella scientifica e altri che sposano un po' invece il senso comune, senza considerare le differenze di livelli che devono necessariamente essere considerati, perché un conto è dire posso cambiare il tuo orientamento, questa è la differenza che non viene mai fatta, un conto è dire io posso cambiare il tuo orientamento sessuale, cioè la tua struttura relazionale del desiderio, cioè quello che ti fa capire che l'altro che ti potrà completare è una persona del sesso opposto o dello stesso sesso, un'altra cosa è dire io posso cambiare il modo in cui ti etichetti, diciamo così, ovvero l'identità di orientamento sessuale, altra cosa ancora è dire io posso cambiare il tuo comportamento, cioè posso aiutarti a controllare e questa differenza non viene mai proposta, quindi proponendo delle illusioni e giocando sul benessere delle persone. Ho capito, senti Jimmy, pensi che comunque il problema fondamentale di tanta confusione possa essere la poca informazione che nelle istituzioni, nei media riescono a dispensare, anche perché c'è il problema delle famiglie che trovandosi alle volte di fronte a un figlio omosessuale, non riescano a comprenderlo e non sanno in che condizione, insomma, come comportarsi con un figlio gay o una figlia lesbica, anche una figlia o un figlio transessuale. Sì, allora, io direi che più che la poca informazione, e questa è una cosa di cui parliamo ampiamente anche nel nostro libro, è il fatto che purtroppo l'orientamento omosessuale, cioè l'omosessualità di una persona emerge solo nel momento in cui viene contemplata, solo quando viene dichiarato, cioè ogni persona viene considerata eterosessuale fino a prova contraria, questo che cosa crea? Esatto, questo crea l'idea interiorizzata a un certo punto, magari durante l'adolescenza o comunque anche in altri momenti, quando la persona incomincia a rendersi conto di non avere un orientamento eterosessuale, fa fatica a trovare gli ancoraggi, cioè a trovare delle risposte, delle risposte, dei contesti in cui potersi rispecchiare, in cui poter dare una spiegazione di quello che sta avvenendo dentro di sé. A maggior ragione nelle persone che questo sentimento non c'è, cioè che lo strutturarsi di questo orientamento non lo hanno, quindi parlo dei genitori, parlo degli insegnanti eccetera. Cioè quello che noi infatti proponiamo è che, nello specifico ad esempio nel nostro testo per quanto riguarda gli psicoterapeuti, ma in realtà questo dovrebbe coinvolgere tutte le persone e nello specifico tutte le persone che hanno a che fare con soprattutto i ragazzi, cioè dare la possibilità all'altro di trovare lo spazio di potersi dire eventualmente omosessuale. Cioè la questione, se noi pensiamo tra virgolette banalmente anche alle bambine e bambini che vanno alla scuola dell'infanzia, alla scuola elementare, alla scuola media, alla scuola superiore, ma anche alle esperienze di ciascuno di noi, gli insegnanti, i genitori, le persone si relazionano all'altro parlando, dando per scontato l'eterosessualità di una persona. Questo non permette all'altro, nel momento in cui incomincia a riconoscere il proprio orientamento non eterosessuale, la liceità di dirsi, di esprimersi e questo secondo me è quello che crea un elemento critico, l'impossibilità di vedersi negli occhi degli altri come possibilmente omosessuale. Poi ovviamente c'è l'altro discorso dell'informazione però corretta, dell'informazione che si basi ad esempio sulle rilevanze della comunità scientifica internazionale e sulle rilevanze del pensiero e dell'analisi sociologica. Certo. Jimmy, per la prossima domanda io prendo proprio spunto da un'altra tua pubblicazione dal titolo Eterosessismo e omofobia in psicoterapia, il modello Milano. L'argomento mi sembra molto allettante perché probabilmente poco affrontato, ne vogliamo parlare? Sì, allora questo è un articolo che si ricresce ad un articolo che ho scritto insieme a Federico Ferrari, sempre, qualche anno fa e noi sottolineiamo proprio questo aspetto, cioè lo spostamento dell'attenzione dall'idea di omofobia a quello di eterosessismo. Cerco di spiegarmi nel modo più semplice possibile. La parola omofobia è una parola che recentemente si sente spesso, sia in diversi contesti e per omofobia si intende quel fenomeno per cui una persona viene esplicitamente discriminata a causa del proprio orientamento omosessuale. Questo è sicuramente un aspetto importantissimo che va combattuto a diversi livelli, ma secondo noi l'aspetto su cui ci si focalizza però poco è l'eterosessismo, ovvero quel fenomeno per cui viene considerato normale e preferibile essere eterosessuale. Questo cosa vuol dire? Che molte persone ad esempio dicono che assolutamente gli omosessuali non devono essere discriminati, però tra essere omosessuali ed essere eterosessuali è sempre meglio essere eterosessuali. Questo che cosa crea? Crea comunque e si traduce in condotte, spesso in comportamenti, in relazioni che magari non discriminano, però non prevedono l'omosessualità e non la considerano ugualmente preferibile. Il nodo è questo, non è più sufficiente dire non vanno discriminati gli omosessuali, bisogna sottolineare il fatto che l'omosessualità, la bisessualità, l'eterosessualità sono altrettanto positive e generative da un punto di vista del benessere individuale e relazionale. Questo va sottolineato e quando noi infatti per fare questo è importante e per far sì che questo messaggio arrivi alle persone omosessuali e bisessuali, è importante che nella comunicazione, nella relazione, noi in quell'articolo parliamo soprattutto della comunicazione e della posizione degli psicoterapeuti, ma questo può valere per tutte le persone, è importante come dicevamo prima che nel linguaggio si preveda la possibilità che l'altro possa non essere eterosessuale. Banalmente se io continuo ogni momento in cui conosco una persona, magari il figlio della sorella, la figlia del fratello o chi che sia, piuttosto che il mio dipendente al lavoro, per il fatto che abbia di fronte un uomo, io dica subito ma hai la fidanzata? Allora questo può sembrare una banalità, però sono tutte forme di comunicazione che mettono l'altro, l'altro che magari può non essere eterosessuale, nella posizione di non potersi dire, perché ovviamente se io ho di fronte una persona che vedo dare per scontato la mia eterosessualità, io difficilmente per tutte le questioni sociali e le pressioni sociali che esistono e che sono ampiamente documentate, troverò il coraggio di potermi dire e questo alimenta e rinforza dei circuiti di autoinvalidazione, cioè di autodenigrazione che rinforza ulteriormente l'omofobia interiorizzata e che crea, continua a creare e rinforza un contesto in cui comunque l'omosessualità è sempre, come dire, l'opzione B, l'opzione meno preferibile. Certo, Jimmy io approfitto della tua competenza per chiederti cosa dice la leggezza scientifica sul rapporto tra ideazione suicidaria e orientamento sessuale, visto che comunque si parlava di omofobia e… Sì, allora, è un tema molto complesso, nel senso che riuscire a definire un rapporto tra orientamento sessuale e ideazione e, purtroppo ancora peggio, come dire, tentativi di suicidi, è complesso per diverse ragioni, è complesso intanto perché comunque l'autodichiarazione per tutti quei fenomeni di cui dicevamo prima non è così lineare, cioè noi viviamo comunque in un contesto in cui la possibilità di esprimersi, di dichiararsi, eccetera, è molto spesso difficile da rilevare, è difficile, è molto legata ai contesti in cui si vive, spesso non viene considerata in maniera appropriata la bisessualità, come dire, si è sempre, ci si gioca sempre sull'orientamento eterosessuale, omosessuale, eccetera. Sicuramente quello che la ricerca scientifica… ci sono un paio di elementi importanti che ormai la ricerca scientifica è in grado di affermare, ovvero che uno riguarda il cosiddetto minority stress, cioè lo stress a cui tutte le minoranze, non solo sessuali, devono far affronte e che le mette in una condizione di stress, di disagio molto più forte rispetto alle non minoranze e che quindi le rende sicuramente più vulnerabili da alcuni punti di vista a delle fenomenologie ansiose, depressogene e che possono essere legate anche a ideazione suicidaria. Cito brevemente una ricerca molto interessante che è stata fatta recentemente e che ha chiesto ad esempio alle persone eterosessuali di per 24 ore cercare di utilizzare una comunicazione che non esprimesse il genere della persona con cui stavano, cioè è stato chiesto alle persone eterosessuali di provare a immaginarsi, come dire, ad esempio omosessuali e di non dover, di fare lo sforzo di camuffare sempre gli aggettivi, i pronomi eccetera e alla fine è stato rilevato che comunque queste modalità dopo 24 ore aumentavano in base a una baseline iniziale i livelli di ansia in maniera statisticamente significativa. Provate ad immaginare una persona che vive ogni giorno in questa maniera e che deve farlo, esperienza che contraddistingue purtroppo la vita di tantissime persone omosessuali e bisessuali. L'altro aspetto che è stato sottolineato ultimamente è che non tanto l'orientamento omosessuale quanto la non conformità di genere rende molto vulnerabile. Cosa vuol dire? Il fatto che una persona non sia dal punto di vista della tipizzazione sessuale stereotipicamente, diciamo così, maschile o femminile. Parliamo ad esempio di ragazzi magari, come si definisce, più androgini o comunque non caratterizzati da tratti che vengono considerati stereotipicamente maschili e allo stesso modo da ragazze che possono non avere delle caratteristiche di tipizzazione non stereotipicamente femminile. Questo a prescindere dall'orientamento. Anche questo elemento rende, secondo alcune ricerche ad esempio della Diamond, di Saving Williams, più vulnerabili perché rende maggiormente oggetto ad esempio di denigrazione, bullismo e quindi questo crea fenomenologie ansiose, depressogene e possono essere connesse ad esempio ad una maggiore di azioni suicidari. Jimmy, brevemente, perché io questo lo volevo dire per i nostri amici web ascoltatori, gestisci anche un sito internet che si chiama www.contattopsicologia.com che invito tutti a visitare, navigando interno nelle pagine ci sono vari argomenti tra cui si parla anche di disabilità. Io adesso so che l'argomento è abbastanza ampio, ti chiedo brevemente se puoi fare un accenno al sito e un po' a questo argomento. Allora sì, questo è il sito che riguarda le diverse attività che sia io che sempre Federico Ferrari con cui collaboro e in realtà anche un'altra collega, la dottoressa Marazzi, portiamo avanti da diversi anni. Ci occupiamo di diverse cose, tra questi aspetti io nello specifico mi occupo anche, collaboro con un centro che si occupa di disabilità e nelle diverse collaborazioni anche insieme a Federico Ferrari ci siamo occupati di questo aspetto, un aspetto molto ampio nel senso che ci sono anche qui un doppio livello, allora intanto il fenomeno per cui spesso la disabilità e la dimensione della sessualità e dell'erotismo spesso non vengono considerate, vengono considerate come non connesse e questo crea una sofferenza per le persone ad esempio disabili che non trova neanche lo spazio di parola, perché poi si ritorna sempre lì, un po' come l'etrocessismo. Il fatto che ci sia ad esempio una squalifica, cioè una anche valutazione negativa di un determinato aspetto, di un determinato fenomeno che può essere l'omosessualità o come in questo caso la sessualità nelle persone disabili permette alla persona, chiamata in causa, di dire qualcosa, sono d'accordo, non sono d'accordo eccetera, però almeno di essere riconosciuta come soggetto. Il problema diventa quando invece proprio non se ne parla, come ad esempio della sessualità nelle persone disabili, allora questo impedisce alle persone addirittura di pensare di aver diritto di dire qualcosa. L'altro aspetto che complessifica ancora di più la questione è quando la sessualità delle persone disabili non è eterosessuale ma è omosessuale, perché allora lì c'è come dire, c'è lo stigma sullo stigma e l'invisibilità sull'invisibilità. Adesso c'è ad esempio c'è un bellissimo documentario che è stato girato che si chiama Sesso Amore Disabilità e c'è stata anche una ricerca in passato molto bella che si chiama Abili di Cuore che si trova andando su internet molto facilmente e che spiega in maniera molto chiara questi aspetti. Bene. Jimmy, io ti devo dire che il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato in quanto i 30 minuti si può dire che siamo praticamente fuggiti ascoltandoti veramente con piacere. Io ci tengo a ricordare nuovamente il libro che è Curare i gay oltre dell'ideologia preparativa dell'omosessualità, edizioni Raffaello Cortina Milano. Prima di salutarci volevo ricordare che il 5, il 6 e il 7 di aprile a Napoli ci sarà il sesto congresso dell'Associazione Radicale di Certi Diritti che quest'anno ricorderà Rosa Parks dal centenario della sua nascita. Voglio anche ricordare che Liberi.tv seguirà tutte e tre le giornate, riprenderà interamente i lavori del congresso e quindi invito chiunque voglia a partecipare perché l'ingresso è libero come sempre per l'Associazione di Certi Diritti. Io ti ringrazio nuovamente per il tempo che ci hai dedicato, spero di averti presto in trasmissione perché finalmente una voce autorevole ci voleva dopo pareri, io li chiamerei soltanto così, di persone che come abbiamo detto prima non sono state certamente titolate a parlare e poi voglio finire, concludere dicendo, leggendo che dal 1973 l'Associazione degli Psicologi Americani ha derubricato dal manuale diagnostico dei disturbi mentari l'omosessualità, quindi l'omosessualità non è una malattia, non è una patologia, chiunque dica di guarire dall'omosessualità non guarisce da niente perché non c'è nulla da guarire, giusto Jimmy? Esattamente, direi di sì… Grazie ancora… Dimmi, dimmi, scusa… No, dico direi di sì, non solo l'American Psychological Association ma è ormai da 40 anni tutte le più importanti, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Perfetto, grazie ancora Jimmy, ringraziamo Jimmy Ciliberto, Donato Volpicella che gestisce la regia ringrazio anche e appunto cedo la linea per il proseguo delle trasmissioni e ringrazio ancora tutti a liberi.tv. Grazie Jimmy e buona serata, grazie. Grazie a te Riccardo, ciao. Grazie a te Riccardo, ciao.